Avete consegnato i potenziamenti nei mondi sbagliati. Sapete cosa significa? Significa che potete andare. Bella trovata capo. Almeno credo. Ma questa non è la mia ascia. C'è scritto... Leviatano. Seguimi ragazzo. Possiamo costruire solo queste cose? È un bel problema sai? Guarda quanti panda! Questa cosa che ho trovato si chiama sbriciola cervelli. Sarà fico no? Fichissimo! Oh vediamo se riesce a colpire questa mela sulla mia testa. Sicuro? Andrà bene ho due anelli. Allora andrà benissimo. Sei pronto? Ah! Fico!